Ieri pomeriggio in prefettura Salerno ha stato svolto un tavolo tecnico specifico sulle problematiche inerenti la situazione di pericolo sul territorio di Sassano relativa alla manutenzione della vasca Cappuccini, uno dei punti maggiormente a rischio di esenduazione del fiume Tanagro. Un incontro tra le istituzioni richiesto dal sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino, e convocato dal prefetto di Salerno, Gerarda Maria Pantalone, durante il quale si è discusso sulle iniziative da intraprendere con gli enti preposti per risolvere quello che rappresenta un potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità. Una problematica sollevata dal primo cittadino di Sassano. C'è un centro abitato che è stato costruito in passato al di sotto dell'argine del fiume Tanagro, tale tratto per le condizioni in cui versa è fortemente a rischio esondazione. Allo stato attuale la manutenzione della vasca Ponte Cappuccini è carente e non viene eseguita la pulizia dell'alveo. Il pericolo per la pubblica incolumità è elevato, considerato gli eventi precedenti e l'imminente arrivo della stagione invernale. L'amministrazione comunale di Sassano dà la piena disponibilità di intervenire anche in modo diretto, previa l'autorizzazione degli enti preposti. Quello che chiedo, ha concluso il sindaco, è un percorso condiviso per trovare insieme una soluzione in modo da eliminare il pericolo. L'incontro si è concluso con l'impegno del genio civile di assumere l'onere dei lavori compresi il progetto, che sono considerati di ordinaria manutenzione. Il referente del genio civile ha chiesto al dottor Pellegrino che il comune di Sassano si faccia carico di eventuali rifiuti solidi urbani, che potrebbero rinvenirsi in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione. Il primo cittadino, convenendo alla proposta fatta, gli ha chiesto la celerità di esecuzione dell'intervento necessario, in considerazione dell'imminente arrivo della stagione invernale.